Oggi ragazzi voglio farvi vedere come attualmente sto guadagnando soldi in modo automatico grazie a questo gioco qua. Il gioco che vedete è chiamato Bomb Crypto e praticamente questo gioco fa guadagnare la sua criptomoneta chiamata Bitcoin. È un gioco di investimento online basato sulla criptomoneta e basato sugli NFT. È un gioco veramente semplice play to earn praticamente pagati per giocare e come vedete ragazzi una volta che siamo entrati all'interno del gioco basterà andare ad acquistare i nostri eroi andare a far esplodere le varie cassaforti e i vari blocchi di roccia. Ogni cassaforte ragazzi che noi andiamo a far esplodere con il nostro praticamente Bomberman vi ricordate il gioco classico gioco ok? Ogni cassa che noi andiamo a far esplodere praticamente ci farà guadagnare dei Bitcoin. Ogni singolo Bitcoin attualmente costa sui 4 dollari per acquistare un singolo eroe ci vorranno 10 Bitcoin e una volta messi in campo loro automaticamente come vedete andranno a giocare per noi quindi noi automaticamente andremo a guadagnare questi Bitcoin per ogni cassaforte che loro vanno ad aprire. Come vedete le cassaforti sono di colori diverse ci sono quelle più facili da rompere che sono quelle marroni, ci sono quelle viola che sono un po' più difficili da rompere e ci sono poi altre varie cassaforti. Ogni cassaforte ci darà sempre più Bitcoin. Tutte le criptomonete guadagnate del gioco chiamate Bitcoin vanno in alto nella destra. Come vedete io nel mio bilancio attualmente ho 16 Bitcoin e ogni singolo Bitcoin ragazzi costa 4 dollari. Qui ragazzi come potete vedere sono nel coin market cap e questo qui è il gioco chiamato Bomb Crypto e la sua moneta è chiamata Bitcoin. Attualmente il suo valore è di 4 dollari e un centesimo. Questo gioco è uscito da poco più di tre mesi e sta spopolando veramente veramente tanto quindi attualmente il suo valore è di 4 dollari. Andiamo a vedere un attimo il grafico. Qua sotto come vedete appena è uscito il gioco ha fatto subito un boom è arrivato a 4 dollari e 80 centesimi dopodiché si è andato ad assestare ed è anche calato come prezzo la sua moneta. Guardate qua ragazzi fino ad arrivare a 70 centesimi di dollaro. Attualmente è in forte crescita questa criptomoneta qua e si va ovviamente a guadagnare giocando al loro gioco chiamato Bomb Crypto. Attualmente come vedete il suo valore attuale è di 4 dollari ma guardate qua ancora una volta guardate qua è andato a toccare anche il doppio è andato a toccare ogni singolo Bitcoin ogni singola criptomoneta 8 dollari e 39 centesimi e noi ragazzi abbiamo la possibilità con questo gioco di investimento non è mica gratuito questo gioco qua quindi io ve lo sto presentando e ci sto giocando e ci sto guadagnando ma io ho investito 500 dollari su questo gioco e attualmente sto guadagnando 5 Bitcoin ogni giorno ragazzi quindi se fate il calcolo 5 Bitcoin per 4 dollari sono praticamente 20 dollari al giorno. Seguito questo video qua perché voglio farvi capire come funziona questo gioco e come andare a ritirare i vostri Bitcoin è veramente veramente semplice semplice acquistare questa criptomoneta qua semplice anche andare ad ottenerla nel nostro exchange personale quindi incominciamo basterà andarsi a registrare a bombcrypto.io fantastico gioco veramente semplice una volta che siete andati all'interno del sito qua come vedete c'è tutta la presentazione è un gioco NFT pixel game farm play earn praticamente andiamo a giocare e veniamo ricompensati con la loro moneta qua sotto vediamo c'è tutta la pagina principale ok non bisogna neanche registrarsi al sito ragazzi per andare ad acquistare i Bitcoin è veramente veramente semplice. Prima di tutto dobbiamo crearci un conto chiamato Metamask. Metamask è praticamente un exchange e una volta installato andrà messo come estensione se avete Chrome se avete Firefox o altri browser andrà messo come estensione qua in alto nella destra guardate qua Metamask e qua ragazzi come vedete c'è il mio conto e qua come vedete ho 16.82 Bitcoin quindi una volta che vi siete creati il vostro conto Metamask ragazzi dovete andare a caricare per chi vuole iniziare a giocare a caricare dei Binance Coin praticamente andate a caricare dei BNB Binance Coin la moneta di Binance che attualmente il suo valore è di 545 dollari io ho caricato meno caricato sui 500 dollari perché ho dovuto caricare dei soldi perché come vi ho detto questo qua è un gioco di investimento ok ragazzi non è gratuito quindi una volta che voi avete creato il vostro conto Metamask avete effettuato l'accesso all'interno di Metamask avete caricato il vostro conto con dei Binance Coin per andare a giocare ragazzi dovete anche andare ad acquistare la loro criptomoneta quindi come si fa basterà andare come dice poi anche il sito qua in fondo della pagina andare su questi exchange ad acquistare la moneta chiamata Bitcoin token io utilizzo sempre PancakeSwap guardate qua ragazzi è veramente semplice anche qua non bisogna mica registrarsi basterà andare nella pagina di PancakeSwap.Finance andare su Trade andare su Exchange qui ragazzi andiamo a scambiare i nostri BNB per i Bitcoin quindi come facciamo ad ottenere l'indirizzo? dei nostri Bitcoin io mi sono praticamente registrato al loro canale Telegram ufficiale questo qua ragazzi ok questo qua è il loro canale Telegram ufficiale guardate qua quante persone sono iscritte 121.000 persone iscritte andate un attimo qua dove c'è scritto Pined Message qua ragazzi come vedete troverete l'indirizzo da andare poi a copiare per andare ad acquistare i Bitcoin quindi copiate questo indirizzo qua tornate in PancakeSwap andate qua ragazzi andate ad incollare l'indirizzo ok come vedete automaticamente PancakeSwap ha riconosciuto Bitcoin quindi li importiamo ok importa e qua ragazzi adesso noi possiamo andare ad acquistare quindi convertire i Binance Coin in Bitcoin praticamente basterà scrivere quanto vogliamo convertire ok come vedete uno 0.10 di BNB equivalgono a 13 Bitcoin andando a premere su Connect Wallet ci porterà ovviamente i vari wallet ad andare a collegare ovviamente noi scegliamo Metamask premiamo su Metamask qua andiamo a premere su Swap adesso io non ho soldi vi sto facendo vedere un tutorial e come vedete qua automaticamente Metamask si è aperto andiamo a confermare una volta fatto il tutto ragazzi avrete i vostri Bitcoin qua nel vostro conto quindi ce l'avete già nel vostro conto i vostri Bitcoin ovviamente potete poi andarli a scambiare quindi riconvertire in altre criptomonete ok quindi una volta che avete i vostri Bitcoin nel vostro conto di Metamask dovete andare nel gioco quindi andate nel gioco principale qua ragazzi vi ricordo a tutti che dovete avere effettuato l'accesso a Metamask ok una volta fatto andate nella destra a premere su Play Now e qua ragazzi si caricherà il gioco quindi qua che cosa succede andiamo a connettere il nostro wallet Metamask automaticamente lo andrà a connettere connect wallet come vedete si è aperto andiamo a premere su firma qua c'è il caricamento e qua ragazzi abbiamo la schermata principale veramente veramente semplice attualmente c'è il treasure hunt che è quello che avete visto prima praticamente i nostri eroi automaticamente andranno in giro a far esplodere le varie casse per ricevere poi i Bitcoin qua nella destra come vedete io attualmente ne ho 16,82 infatti nel mio conto Metamask come vedete ne ho 16,82 quindi ce l'abbiamo nel nostro exchange una volta che l'abbiamo guadagnati nel gioco automaticamente ci vengono messi qua i Metamask quindi attualmente c'è il treasure hunt più avanti ragazzi andando poi a leggere le varie info che trovate su Twitter o su Telegram il loro canale ufficiale guardate qua qua siamo nel canale ufficiale su Twitter attualmente ha 97.000 follower qua ragazzi vi consiglio di seguire Bomb Crypto perché dà tutte le varie informazioni sui vari eventi sulle varie classifiche su chi può vincere NFT e sulle varie roadmap del Bitcoin quindi come si sta evolvendo questa criptomoneta qua fantastica ragazzi qua ragazzi sono un sacco di informazioni ok quindi io penso che più avanti avremo proprio il gioco Adventure praticamente saremo proprio noi a giocare poi più avanti ancora avremo la battle cosa vuol dire andremo a scommettere i nostri Bitcoin contro le altre persone che sono ovviamente iscritte a bombcrypto.io quindi adesso che abbiamo messo i nostri Bitcoin nel nostro Metamask quindi nel nostro exchange per incominciare a giocare dovrete andare su shop e andare ad acquistare almeno un eroe ok ragazzi come vedete per uno ci vorranno 10 Bitcoin 10 Bitcoin con il valore che è attualmente quindi 4 dollari per 10 sono sui 40 dollari attualmente dico ragazzi perché il prezzo adesso è di 4 dollari poi se trovate l'occasione che il prezzo si vada a abbassare soprattutto se il prezzo va a meno di un dollaro consiglio ovviamente di andare ad acquistare Bitcoin ma questo è solo l'inizio ragazzi io penso che il prezzo possa esplodere come altri giochi basati sulle criptomonete potete acquistare un eroe quindi un Bomberman con 10 Bitcoin se no acquistare 5 con 50 Bitcoin se no 10 con 100 Bitcoin praticamente una volta che andate a premere aprirà automaticamente Metamask andate a confermare e andate poi ad acquistare i vostri eroi una volta acquistati i vostri eroi ragazzi basterà andare qua su Heroes qua nella destra ok come vedete qua ogni eroe ha praticamente il suo livello e ogni eroe ha varie statistiche qua come vedete questo eroe ha la potenza di esplosione 3 più 2 quindi vado a 5 la velocità è di 1 la stamina che è praticamente molto importante la stamina perché è la vita del nostro eroe quindi più è alta la stamina più il nostro eroe starà lì nella mappa a far esplodere qualsiasi cosa soprattutto le cassaforti può rilasciare solo una bomba e questo qui è il range dell'esplosione e qua come vedete c'è un effetto quindi una mossa bonus che ha il nostro eroe come vi ho detto ognuno di loro è diverso ragazzi questi qua sono eroe chiamati common ma io ne ho trovato uno super raro questo qua è il mio eroe preferito praticamente è il più forte ragazzi attualmente ne ho uno che sta lavorando gli altri praticamente stanno riposando ok rest adesso lo andiamo a mettere in campo quindi work andiamo a fare lavorare andiamo a premere su treasure hunt qua ragazzi come vedete loro io non sto facendo niente non sto muovendo niente nulla guardate qua loro automaticamente vanno a far esplodere le varie casse forti con all'interno ovviamente i bitcoin che vanno tutti in alto nella destra vedrete proprio che quando vanno a far esplodere una cassa la moneta va in alto nella destra qua ragazzi e come vedete io attualmente ho 9 bitcoin e 39 posso andare a reclamare quindi premere su claim una volta che ho raggiunto i 40 bitcoin e non solo possiamo guadagnare la criptomoneta ma possiamo guadagnare con una cassa rara possiamo guadagnare direttamente anche un altro eroe ragazzi gratuitamente senza spendere i 10 bitcoin e qua come vedete loro automaticamente stanno giocando per conto nostro una cosa molto importante è quella che dobbiamo rimanere in questa pagina qua non la possiamo chiudere se chiudiamo la pagina i nostri eroi si vanno a fermare oppure andiamo a premere qua per esempio come vedete i nostri eroi si sono fermati voi dovrete restare su questa pagina qua osservate la pagina oppure fate qualcos'altro potete cambiare anche pagina fare qualsiasi altra cosa l'importante è che la tenete aperta una volta come vedete che i nostri eroi hanno finito la stamina come vedete questo eroe qua che si sta muovendo velocemente ha la stamina veramente bassa una volta che la stamina è andata a zero il nostro eroe si metterà a dormire perché praticamente è stanco una volta che i nostri eroi hanno finito tutti la stamina saranno messi a riposare possono passare dai 10 ai 30 minuti per rimetterli in campo e farli giocare a far esplodere tutte le casse una volta che tutte le casse sono state aperte quindi tutti i bitcoin andranno messi poi nella destra loro cominceranno a far esplodere anche tutte le pareti e tutte le rocce per accedere automaticamente a una nuova mappa ok ragazzi quindi non c'è solo questa mappa qua ci sono mappe infinite è un fantastico gioco qua si sta parlando di investimenti si sta parlando di dare fiducia a un progetto come quello di bomb crypto attualmente il bitcoin la sua criptomoneta di 4 dollari è un centesimo ma questo è solo l'inizio perché perché il gioco esiste da soli tre mesi ragazzi ed è veramente guardate qua la watch list è veramente osservato e sta diventando veramente molto molto popolare ebbene ragazzi per il video tutto mi raccomando se volete rimanere aggiornati su bomb crypto iscrivetevi a questo canale attivate la campanellina noi ci vediamo nel prossimo video ciao da felix